Allora, io direi che iniziamo, sono le sei e mezza puntuali, ringraziamo Francesca Barenghi, Sara Pizzi e Luca Scantini per essere qui con noi e parlarci dei gatti. Prego. Tutto è cominciato quando i gatti norvegesi sono entrati a far parte della nostra famiglia. Per una tesi finale di un corso di allevatore mi era stato proposto un argomento molto caro, come far vivere felice un gatto all'interno delle pareti domestiche. La scelta di questo soggetto non era casuale, infatti da sempre il mio interesse era proprio di offrire ai gatti che vivevano con me una vita felice. E' proprio in questo contesto che nasce Cose da Gatto, un marchio che abbiamo creato insieme a mio marito Olivier qualche anno fa, che commercializza degli oggetti per gatti di altissima qualità e robustezza. L'idea è proprio nata da questa mia passione per i gatti e soprattutto dalla ricerca di oggetti che avessero una certa qualità. All'inizio si trattava di prodotti che venivano importati dall'estero perché in Italia c'era poco materiale di questo tipo. Poi abbiamo prodotto proprio delle nostre linee e ora questi elementi vengono creati direttamente da noi in modo artigianale con dei prodotti al 100% italiani. La caratteristica di questi accessori è la ricercatezza dei materiali. Per esempio per i tiragraffi utilizziamo del massello di castagno che viene trattato con una lavorazione particolare che la rende valutato al tatto. Anche dal punto di vista estetico sono dei prodotti che non risultano grezzi e c'è una grande ricerca del dettaglio che praticamente ci distingue dalle altre opzioni che sono presenti sul mercato. Questo in sintesi però lascio la parola all'architetto Sara Pizzo e al medico veterinario comportamentalista Luca Cantini che vi parleranno in maniera più approfondita dell'importanza proprio dell'arredare una casa a misura di gatto proprio per il benessere dei nostri amici. Buonasera a tutti. Iniziamo subito su quando io inizio e penso ad un nuovo progetto d'arredo per gli animali da compagnia prendo in considerazione tre caratteristiche principali cioè quelle che sono le caratteristiche etologiche cioè quelle che sono le caratteristiche comportamentali tipiche di quella specie quelle che sono le caratteristiche individuali perché ogni individuo è un gatto a sé stante per cui naturalmente avrà delle esigenze e un carattere e delle necessità diverse da tutti gli altri e quelle che sono le caratteristiche della relazione che il gatto ha con le persone che stanno in casa quindi con i proprietari e con gli altri animali. Allora prendendo in considerazione le caratteristiche etologiche diciamo subito che il gatto è un eccezionale predatore e lo vediamo tutti, tutti noi lo vediamo chi abita in campagna, alla fortuna di abitare in campagna vede i nostri gatti che riportano ogni tanto topolini, uccellini, piccoli predi insomma animaletti vari per loro sfortuna però del resto è la loro indole e in casa naturalmente il termine predazione si traduce con la parola gioco quindi giocando il gatto esprime la propria esigenza di predare quindi se, perché predare è un'esigenza quindi se il gatto non preda diventa un, diciamo può andare incontro a patologie comportamentali quindi praticamente nel caso ad esempio ad esempio la mancanza di predazione può essere una diciamo una predisposizione, un fattore predisponente a determinate patologie come l'anserologo chiuso quando appunto i gatti stanno tutto il giorno senza fare niente tutto il giorno in casa e che cosa fanno? appena arriva il proprietario è il unico momento in cui possono predare e in quel momento inizia l'attacco e quindi è possibile anche che si scatenino e si abbiano delle aggressioni anche piuttosto violente no, 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 perdite quindi quando il, diciamo nella predazione dobbiamo tenere presente la sequenza predatoria perché la sequenza predatoria si divide in tre fasi essenzialmente la prima fase in cui c'è una fase appetitiva in cui praticamente il gatto punta la preda una fase di consumatoria in cui il gatto sferra l'attacco e una fase invece di appagamento in cui il gatto tiene tra le grinfie la propria preda quindi se non viene rispettata la sequenza predatoria diciamo che quindi quando noi proponiamo dei giochi al gatto naturalmente dobbiamo far sì che la sequenza predatoria sia rispettata quindi se quali giochi non sono indicati ad esempio? non è indicato ad esempio il laser sono sempre sui giochi non è indicato ad esempio il laser perché il laser nel gioco con il laser manca la fase di appagamento cioè il gatto non riesce ad acchiappare la preda quindi che cosa succede? che c'è il rischio che l'eccitazione salga e ridiriga poi la sua aggressività nei confronti di chi gli sta accanto quindi con aggressione ridiretta quindi ridirige ad esempio su un altro gatto che sta vicino a lui oppure invece anche per esempio i giochi che stanno appesi si vanno bene ma fino a un certo punto nel senso che comunque il gatto si muove cioè la preda si muove un pochino e rimane attaccata per cui non è mai nelle zampe tra le zampe del gatto quindi che cosa possiamo proporre? possiamo proporre ad esempio delle palline di pezza oppure dei pupazzetti di pezza oppure quelli che tornino un attimo indietro questi qua che sono di mia ricreazione si chiama Playful Crew la linea dei giochi sono dei pupazzetti in cartone che hanno la caratteristica di staccarsi nel momento in cui sono appesi a un filo poi vi dico anche che tipo di filo e hanno la caratteristica di staccarsi nel momento in cui il gatto sfeda l'attacco quindi la sequenza predatoria viene completata e il filo in realtà è una cordicella di carta arrotolata e questo fa sì che non possa essere ingerito dal gatto perché è un altro dei pericoli che è costituito da tutto ciò che è filiforme e anche il gatto lo possa ingerire e quindi ad esempio i nastri dei sacchi dell'immondizia quelli sono ingeriti molto facilmente e allora lì bisogna correre poi dal veterinario ok ancora dopo grazie e il gatto però è anche una preda e quindi noi ha comportamento questa anima doppia per cui è predatore ma ha anche comportamenti da preda per cui che cosa dobbiamo offrire? dobbiamo offrire naturalmente delle vie di fuga dobbiamo offrire al gatto la possibilità di uscire dalla stanza dove si trova come e quando vuole quindi porte sempre aperte i gatti odio come porte chiuse a me è capitato una volta di fare una risa comportamentale in una casa arrivai il gatto fa la pipì di fronte a dice il gatto fa la pipì in casa ok andai a fare la visita e dice il gatto fa la pipì qua e mi accorsi che un po' qua un po' là insomma era sempre davanti alla porta di qualcosa che serviva l'accesso a un'altra stanza quindi che cosa e io a quel punto chiesi ma le porte naturalmente in quel momento non erano aperte naturalmente sono aperte no? e lui e la signora invece mi disse no le porte quando vado via le chiudo e quindi è bastato offrire le porte e il gatto no? dare la possibilità al gatto di entrare e uscire nelle altre stanze e anche fuori in giardino e la cosa si è risolta tranquillamente e oltre a questo dobbiamo dare anche dei nascondigli cioè dobbiamo far sì che i nascondigli classici sono sotto al letto oppure sotto al copri di divano no? con io a volte entro nelle case e vedo mezzo gatto sotto al copri di divano e mezzo gatto fuori no? con il sedere fuori e e e e quindi oppure no? in alto quindi sopra l'armario naturalmente in Essara dobbiamo fornire dei nascondigli un po' più validi e anche un po' più carini integrati con il progetto nel retro insomma ok grazie quella dopo si si allora in alto cioè il nascondigli in basso e in alto perché? perché il gatto vive lo spazio in tutte e tre le sue dimensioni quindi se è un problema per chi magari si dimentica il pesce sul tavolo da lavoro perché il gatto arriva e può acchiapparlo per mensale in realtà è una è una vera e propria manna dal cielo perché comunque noi possiamo utilizzare cioè gli spazi che noi possiamo utilizzare sono molto più ampi di quello che in realtà uno si potrebbe immaginare per cui noi siamo animali con i piedi ben piantati a terra loro sono eccezionali scalatori quindi è importante dare via a parete attrezzate a moduli da parete a passerelle insomma la possibilità di potersi di poter ad esempio utilizzare spazi vicino alla finestra in modo tale che il gatto possa muoversi che non vuol dire sconvolgere l'arredamento di casa significa adottare delle piccole soluzioni che però permettono al gatto di salire in alto anche perché il fatto di poterli far muovere diventa una necessità come dicevamo prima una necessità sanitaria perché questi gatti stanno in casa senza far niente tutto il giorno e quindi è giusto farli muovere e così in questo modo preveniamo l'obesità e tutte le patologie correlate come ad esempio il diabete millito ok dopo allora ama il caldo naturalmente tutti noi amiamo il caldo però il gatto lo ama in modo particolare allora io vi faccio questa domanda è possibile che sia dovuta al fatto che il gatto uno dei principali antenati del gatto è il felis il versis libica che è un che è un gatto selvatico nord africano forse sì forse no questo forse è più una mia idea che la realtà però comunque il fatto sta che il gatto è comunque un amante del caldo quindi bisogna fornire tutta una serie di luoghi di riposo in prossimità delle fonti di calore dell'appartamento quindi in prossimità della stufa oppure la macchina del termosifone oppure posti alla finestra al solido dove il gatto può andarsi a riscaldare nelle prime ore nelle ore calde della giornata ok grazie per quanto riguarda invece il diciamo le deiezioni diciamo che le cose da dire sono tantissime e innanzitutto i tipi di substrato stasera naturalmente poche non ne parleremo parleremo di poche cose comunque innanzitutto i tipi di substrato che sono essenzialmente tre quelli in bentonite questa sostanza argillosa che da sempre è stata utilizzata quindi quella più classica e che ancora oggi è utilizzata poi quelle in silicio che sono un po' più di recente introduzione sul mercato e che in realtà offrono la possibilità di trattenere gli odori più facilmente e allo stesso tempo quindi la lettiera può essere cambiata meno frequentemente allora c'è da dire che non tutti i gatti la gradiscono perché in realtà i grani del silicio sono piuttosto grossi per cui non sono molto gradevoli per alcuni gatti e in più si trattengono gli odori ma per il gatto che ha un olfatto molto sviluppato non lo so quanto possono trattenere gli odori e in ogni caso se i vostri gatti sono abituati a questo tipo di lettiere è assolutamente da non cambiare se volete abituarli alle lettiere in silicio perché vi piacciono a voi provate però lasciando sempre la vecchia lettiera perché altrimenti c'è il rischio che vada sul tappeto il gatto quindi preferibile questo un po' per tutti i cambiamenti quando io cambio un qualcosa con il gatto devo sempre lasciare l'alternativa vecchia perché altrimenti come i tiragraffi come qualsiasi altro tipo di se una cosa funziona squadra che vince si cambia sì però bisogna avere un'alternativa lasciare sempre la vecchia alternativa quindi per quanto riguarda le cassettine igieniche come devono essere possono essere la forma è diciamo poco importante quindi chiuse aperte tonde quadrate non importa l'importante è che siano stabili che siano abbastanza ampie perché il gatto deve potersi girare quindi poter scavare ma allo stesso tempo muoversi all'interno della lettiera e allo stesso tempo sì l'unica differenza ci può essere tra la lettiera che la lettiera chiusa e la lettiera aperta perché alcuni gatti non amano le lettiere chiuse per cui se vogliamo farle abituare magari sicuramente togliamo lo sportellino perché a volte è lo sportellino che dà fastidio e comunque lasciare sempre la lettiera aperta vecchia se vogliamo cambiare quante devono essere qui c'è una regola che il numero delle lettiere deve essere pari al numero dei gatti più una quindi se io ho 4 gatti 5 lettiere questo per far sì che ognuno abbia i propri spazi dove potete andare e diciamo che è chiaro che se io ho 13 gatti difficilmente potrò mettere 14 lettiere però magari mi ci dovrò approssimare abbastanza a questo numero quindi almeno una decina di 9 10 lettiere vanno mantenute come farlo ci sono cioè possiamo ingegnarci su dove collocarle come collocarle ma cerchiamo sempre di stare molto vicino a questo numero quindi dove collocarle ora non so poi se Sara ne parlerà un pochino dopo comunque ok in ogni caso non solo nel bagno di solito se uno non è un gatto utilizza il bagno per mettere per collocarle in vertiera però possiamo anche benissimo utilizzare altri spazi e magari metterli in comunicazione tra loro ok grazie per quanto riguarda le marcature diciamo che cosa fa il gatto quando marca il gatto quando marca mette la sua firma cioè depone dei feromoni che non sono nient'altro che delle sostanze che rappresentano la firma del gatto quindi marcando mette la sua firma definisce i suoi spazi ma non solo come vedremo perché le marcature possono avvenire sia attraverso lo strofinamento del muso quindi le marcature facciali su persone o su oggetti ok oppure graffiando andando a graffiare queste sono le marcature in un gatto normocomportamentale poi ci sono le marcature in un gatto patologico che può essere appunto come mi diceva prima Francesca il fatto che la gatta possa andare a urinare da una gattina che di cui parlavo prima che va a urinare e va a urinare di fuori nella cassettina e quindi potrebbe essere un problema di marcature patologiche in ogni caso il diciamo che quando si strofina il muso su oggetti definisce i suoi spazi il gatto quindi sono marcature di tipo territoriale quindi in qualche modo è come quando noi mettiamo le foto mettiamo le nostre foto e diciamo in questo modo il gatto dice agli altri gatti ma soprattutto a se stesso che quello è casa sua ok che quello è il suo posto mentre quando strofina il suo muso su persone su animali quindi su esseri viventi le marcature assumono una valenza sociale quindi sta dicendo tu sei mio amico ok quando invece graffia ritorniamo su un tipo di marcature di tipo territoriale di solito graffiano in prossimità dei luoghi di riposo quindi vicino a dove loro dormono tant'è vero che il posto classico è il divano perché dormono sul divano poi scendono e si fanno le unghie poi come graffiano o meglio il tipo di segnale che viene lanciato è un segnale tipo visivo perché gli altri gatti vedono le marcature vedono i graffi e al tempo stesso il tipo olfattivo perché gli altri gatti vanno là e sentono che queste marcature sono state riposte da un altro dal gatto da un loro simile quindi graffiare per il gatto è un'esigenza quindi se non li permettiamo di graffiare c'è il rischio che poi insorgono delle marcature vengono fuori delle marcature patologiche quindi se noi tutte le volte lo sgridiamo perché graffia il divano cioè noi dobbiamo dargli delle alternative allora possiamo mettere dei tiragraffi ok e esistono anche ora dei prodotti come ad esempio si chiama il felly scratch che è un prodotto che se messo sul tiragraffi attira la graffiatura sul tiragraffi e non quindi fa sì che non vada a graffiare altre cose però diciamo che non possiamo impedire al gatto di graffiare ok quelle con le marcature facciali questo è il gatto che sta dicendo questo è mio è mio è mio quindi non è che si accalizza no no questo sta dicendo è mio non si graffi qui gli piace quindi dice intanto ci faccio ci metto una bella filma poi vediamo non è solo quando si gratta è proprio per grattarsi il gatto ha le unghie per cui no quindi quando si strufiare la cosa strufiare è come accarezzarsi cioè sostituisce la mano del padrone no no in questo momento sta facendo marcasù no no sta facendo le marcasù le facciate sì ci sono allora sono della pelle quindi sono dei feromoni che sono sì 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 dei feromoni che vengono secreti dalla pelle e quindi niente quindi sta dicendo è piaciuto ok ok quindi altra caratteristica ci chiediamo è un animale sociale il gatto quindi lo stereotipo del gatto ce lo descrive come un un animale schivo no che è molto che tende a stare per conto suo che si lega all'ambiente e non alle persone poi è chiaro che ognuno ha il proprio carattere non è detto che tutti siano affettosissimi o comunque che siano socievolissimi però in linea di massima in linea di massima i gatti riescono a vivere in colonie anche molto numerose quando c'è abbondanza di risorse riescono a vivere in colonie numerose riescono a stringere animali legami sociali con altri animali con i conigli con i conigli ma non è detto che la relazione può essere si può cercare di non è detto poi dipende anche da dall'età in cui viene preso il gatto quindi il gatto di 13 anni e arriva un coniglio e ci sono i conigli più piccoli non è detto nel senso dipende dall'indole del gatto insomma lì anche bisogna anche cercare un attimo di integrare o comunque di farli integrare tra di loro o comunque di favorire la relazione che guardano tutti questi passi matta però ma come si comportano loro? no però non sono stati ancora nel tentativo di integrazione non c'è mai stato ah non c'è mai stato lì ora da sapere forse sarebbe stato più facile con il coniglione grande e il gattino piccolo allora magari forse però non è detto è possibile anche che poter riuscire dipende dal lido del gatto e anche i conigli si difendono appunto quindi non è detto assolutamente e poi niente anche in famiglia con noi quanto sono affettuosi con noi quindi quanto sono quanto riescono a stringere i legami con noi quindi diciamo che è un animale sociale non in senso stretto come possiamo esserlo noi o come può essere il lupo o come può essere il cane perché noi vediamo il tutto di una logica di gruppo quindi noi pensiamo assieme al gruppo il gatto tende a decidere un po' per conto suo il cane di fronte a un problema alza dal muso e si rivolge al padrone il gatto tende a risolverlo per conto proprio forse proprio questo gli amanti dei gatti amano i gatti e è selettivo nelle relazioni questo però come impiasimarlo nel senso che anzi forse anche meglio nel senso per quanto riguarda le caratteristiche individuali andiamo a vedere innanzitutto il carattere del gatto ci troviamo di fronte a un animale timido e introverso esuberante d'atletico curioso e socievole o affettuoso probabilmente sarà un mix di queste cose probabilmente non sarà una sola di queste cose probabilmente sarà magari timido e introverso nel momento in cui arrivano persone a casa poi magari affettuoso molto affettuoso con noi e allora se è timido e introverso essenzialmente timido e introverso io farò in modo che abbia più vie di fuga più posti dove andarsi a nascondere più posti dove andarsi ad isolare se invece è un animale molto esuberante ed atletico abbiamo tutti i percorsi possibili immaginabili se è curioso e socievole io farò in modo ad esempio che possa venermi a salutare nel momento in cui arrivo a casa e con le borse della spesa e quindi possa subito quindi non gli impierirò l'accesso all'ingresso di casa e allo stesso tempo magari farò in modo anche di allestire delle piccole aree verdi delle piccole zone dove lui potrà andare a curiosare dove potrà soprattutto se vengono collocate sul terrazzo ad esempio lì ci vanno animaletti insetti il gatto può andare a curiosare tranquillamente se è affettuoso naturalmente e la relazione come vedremo dopo tra proprietario e gatto è improntata è basata soprattutto sull'affetto allora io farò sempre in modo che il gatto sia a portata di carezza ok sempre tra le caratteristiche individuali vediamo ad esempio che c'è differenza tra un gattino di 2-3 mesi e un gatto di 13 anni un gattino di 2-3 mesi naturalmente avrà bisogno di un ambiente un po' più vattato un po' più a misura di gattino quindi delle ciotole piccole e soprattutto una lettiera piccola cioè una lettiera non piccola ma con i bordi bassi in modo tale che possa salire agevolmente sulla lettiera soprattutto questo per i gattini orfani perché i gatti orfani non sono abituati all'uso della lettiera per cui io devo abituarli per abituarli dovrò fare in modo non solo di stimolarli nel momento in cui li metto sulla lettiera ma dovrò fare anche in modo che possano salire agevolmente sulla lettiera e quindi utilizzarla e naturalmente magari predisporrò già l'ambiente perché è chiaro io non posso fare un progetto di arredo che dura tre mesi dopo tre quattro mesi il gatto già diventa adulto comunque un giovane adulto e quindi io predisporrò già dei moduli o comunque degli oggetti che poi utilizzerà in seguito ma farò in modo che le utilizzi magari in seguito e quindi non ci possa andare subito immediatamente e inoltre il gatto anziano invece è un animale che sicuramente ha delle esigenze diverse perché avrà problemi articolari e quindi avrà difficoltà a muoversi il cane ce lo dimostra ok perché magari in zoppica il gatto ce lo dimostra meno però anche loro hanno problemi articolari quindi faremo ad esempio che possa salire più agevolmente attraverso delle rampe oppure attraverso facendo così che le distanze tra i gradini per salire siano minori per cui riescono a salire più agevolmente e poi magari avrà un gatto con una minore capacità visiva magari difficoltà di udito e quindi farà in modo tale che lui possa essere sempre un po' sott'occhio dei proprietari e in modo tale che lo possano aiutare nel momento in cui lui si trova in difficoltà poi ci possono essere gatti con esigenze particolari quindi gatti con patologie specifiche ad esempio gatti con diabete mellito o con insufficienza renale cronica questi gatti hanno la necessità di bere di più di solito anche per gatti che diciamo quando la patologia è controllata nonostante la patologia sia sotto controllo naturalmente bevono di più del solito e quindi io metterò dei punti di approvvigionamento acqua maggiori oppure metterò delle fontanelle per gatti che serviranno non solo a dare conforto al gatto malato ma serviranno anche come arricchimento ambientale per i gatti che magari stanno più giovani quindi giocano con il filo dell'acqua comunque poi ci sono gatti che possono avere problemi fisici ad esempio gatti mutilati oppure gatti che hanno sono cefi sordi insomma ce ne sono di situazioni del genere non è che abbiano particolari esigenze in più nel senso che comunque riescono a muoversi in un ambiente casalingo specialmente tranquillamente però insomma se riusciamo ad apportare qualche piccola modifica in più o comunque qualche attenzione in più male non fa poi ci possono essere gatti con problemi comportamentali e allora lì se c'è già stata una collega comportamentalista che si è occupata del problema allora io non farò altro che avrà fatto sicuramente già un adicchimento ambientale avrà già impostato una terapia per cui io e Sara ci limiteremo a rendere un po' il tutto un po' più carino un po' più integrato con il progetto di arredo dell'appartamento se invece ho il sentore cioè non è stato ancora fatto nessuna diagnosi non è stata fatta nessuna visita e ho il sentore che ci sono problemi comportamentali allora io fermo un attimo faccio la visita e dopodiché capiamo facciamo una diagnosi impostiamo una terapia comportamentale e dopodiché allo stesso tempo portiamo avanti il progetto di arredo ok per quanto riguarda la relazione dobbiamo vedere quella che è la relazione con i proprietari quindi che cosa fanno assieme quindi che cosa innanzitutto perché è stato preso un gatto perché tutti noi prendiamo un animale perché abbiamo delle esigenze non certo perché ce lo chiedi lui quindi noi prendiamo un gatto e ci immaginiamo già una vita futura insieme a lui quindi perché è stato preso questo gatto che cosa fanno insieme la relazione è basata soprattutto sul gioco oppure la relazione è basata soprattutto sulla sull'affetto sull'affettività oppure la relazione è basata più sull'accudimento allora io dovrò andare a vedere quali si chiamano in comportamento dimensioni di relazione ok quali dimensioni di relazione sono prevalenti in quella relazione quindi favorire quel tipo di dimensioni cioè quel tipo di momenti e quindi si giocano ma come giocano il proprietario gioca tranquillamente seduto sul divano e quindi lancia palline oppure allora io utilizzerò un mobiletto magari la metto da collocare vicino al divano in modo tale che si possa tranquillamente giocare in tutta comodità oppure è più matto del gatto e si rotola sul tappeto insieme a lui ok benissimo allora io farò ideerò un'area giochi che è semplicemente costituita da un tappeto comodo facile da pulire e molto molto morbido tale da costituire un'area giochi quindi lì potranno giocare e magari vicino metterò una cassettina dove ci sono tutti i giochi disponibili a disposizione e per quanto riguarda oppure la relazione è basata sull'accudimento quindi il i proprietari amano spazzolare i loro spazzolari e i loro spazzolari e i loro gatti quindi e al gatto piace naturalmente lì si può creare anche un momento importante tra i gatti e i proprietari per cui è importante dare spazio a questo tipo di momento relazionale e allora magari posso tranquillamente fare e progettare un piccolo angolo dove è possibile tolettare in tutta tranquillità il proprio animale oppure progettare una stanza appositamente studiata dipende dal tipo di anche dall'ampiezza dell'appartamento tanti sempre più proprietari portano il loro gatto in passeggiata questo si fa col cane però tanti lo fanno anche col gatto sempre di più per cui magari mettere un mobiletto o comunque un appendiabiti vicino per una pronta uscita con il gatto ma di solito si fa con il cane perché aiuta molto di solito l'uscita con il cane è un momento molto concitato il cane va su di giri per cui bisogna prendere chiave prenderlo e quindi è più possibile se noi abbiamo un mobiletto già Ikea ci ha pensato una cosa del genere è un po' diciamo potrebbe un po' ampliare comunque questa è la mia opinione e comunque in ogni caso un mobiletto dove c'è tutta tutto il necessario per una pronta uscita con il cane aiuta non è detto di non poterlo fare anche con il gatto per quanto riguarda la relazione con gli altri animali innanzitutto vedere chi sono quali animali sono presenti in casa sono conilli quindi fare un identikit di tutti i vari animali presenti in casa e quindi vedere anche quelli che sono i rapporti tra di loro quindi che cosa fanno assieme ma soprattutto sono amici o nemici nel senso che si amano oppure si tollerano allora se sono amici io cercherò di impostare preparare degli spazi comuni ad esempio delle cucce molto ampie dove poter dormire assieme oppure se sono invece nemici come a volte può capitare tra gatti nel senso che non si amano troppo allora a quel punto predisporrò degli spazi in modo tale che ognuno abbia il suo posto dove andarsi a isolare soprattutto l'altro non possa andare a dare fastidio nel momento in cui l'altro si isola e quindi se sono cane e gatto invece perché può capitare di trovarsi anche a strutturare un progetto per cane e gatti se sono cane e gatto e sono cane e gatto nel vero senso della parola allora farò in modo che il cane viva lo spazio in basso e il gatto viva lo spazio in alto quindi separerò gli spazi non separerò gli ambienti cioè non farò vivere il gatto in una stanza oppure in metà casa e il cane in un'altra se separerò gli spazi farò in modo che il gatto viva soprattutto gli spazi in altezza mentre il cane viva soprattutto anche perché di più non può fare e quindi se però sono anche se sono amici predisporrò degli spazi comuni ok però farò in modo che alcune cose siano separate tipo le lettiere io farò in modo che non siano accessibili al cane perché spesso il cane va a mangiare delle deiezioni del gatto oppure farò in modo che il cibo del gatto non sia a disposizione del cane perché è chiaro che non fa bene e poi allo stesso tempo anche il gatto deve mangiare ok io ho finito allora come abbiamo visto il veterinario comportamentalista individua tutte le esigenze del gatto che non sono solo le esigenze della specie in sé ma sono proprio individuali cioè ogni gatto ha il suo carattere chi ha un animale in casa lo sa benissimo non tutti i gatti sono uguali e neanche tutte le famiglie sono uguali vediamo lì nella foto per esempio che questo cane e questo gatto convivono tranquillamente quindi è l'opposto dello stereotipo del cane e del gatto e quindi quando si va ad affrontare il progetto degli interni pensato anche per l'animale di casa che può essere un gatto ma può essere anche cane e gatto appunto bisogna cucire tutto su misura quindi per la famiglia e per gli animali ok allora qua vediamo qualche esempio di applicazione del progetto di Arreo per gatti il gatto ma vivere a tutta altezza ce l'ha ripetuto bene Luca ce l'ha spiegato bene cosa significa sopperire a questa esigenza del gatto significa appendere delle cose in alto e quindi delle arrete a soffitto ora se voi vi siete già trovati cimentati nell'appendere queste arrete a soffitto sapete che non è semplice perché magari trovo un pezzo di trave magari trovo una cosa che pesano non è solo il peso ma anche perché a seconda del tipo di supporto devo usare un tassello adeguato devo usare quanti tasselli devo mettere quanto deve essere lungo il tassello cioè sono tutte cose che sembrano banali ma che poi nella pratica ci creano dei problemi per cui le cose da conoscere sono un supporto quindi il tipo di supporto che significa il solaio come di pietra ho un solaio di pietra dove lo devo mettere il tassello non lo devo mettere nel giunto tra mattone e mattone perché quello lì si spavirerà e quindi specialmente se avete un gatto un pochino peso magari poi va giù e quindi questo è importante poi la portanza degli arreli questo ce l'aveva già accennato anche Francesca che dice che i suoi arreli sono dimensionati per un peso diciamo abbastanza consistente per cui eventualmente anche se avete due gatti che contemporaneamente camminano sullo stesso gioco sullo stesso arrello a soffitto potete essere tranquilli quindi conoscere quanto è la portanza dell'oggetto che andiamo a mettere in casa è molto importante poi il tipo di ancoraggi allora gli ancoraggi per il soffitto non sono dei semplici tasselli quelli allungati ma si usano dei tasselli speciali che si chiamano sono delle ancorette che sono più angolari quindi si allargano in un altro senso rispetto al tassello normale e permettono appunto di rimanere fissati e non sfilarsi perché il problema dei tasselli sottoposti a trazione è che si sfilano facilmente quindi attenzione a quando andate a comprare le vite e i tasselli per gli oggetti a soffitto di scegliere il giusto tipo di vite come fare? una cosa più banale è chiedere per esempio se andate alla hobby o ad Alerba Merlana se non voglio fare delle pubblicità chiedete dite allora io ho un solaio in pietro oppure ho un solaio in cemento voglio un tassello che mi regga questo peso per questo tipo di solaio importante distribuire il peso quindi non mettere un unico tassello ma piuttosto metterne non solo quattro agli angoli ma metterne uno in più perché più è distribuito se uno dei tasselli si sfila l'altro vi viene incontro quindi sovradimensionare il numero dei tasselli ci sono anche dei tipi di arredi dal gatto che ruotano ora in questo caso alcuni dicono che non sono proprio diciamo indicati indicati per il gatto ma perché non gli piace il bidon d'olio però se eventualmente acquistate su questo tipo di arredi tenete conto che dovete prendere un tassello girevole perché il tassello girevole fa sì che non si crei il problema dello sfilamento altrimenti girando molto spesso si può sfilare quindi chiedete un tassello girevole e queste sono piccole indicazioni diciamo di massima sulla sicurezza per quanto riguarda l'ultimo aspetto degli arredi a soffitto è l'altezza perché se noi abbiamo un soffitto di 3 metri non c'è nessun problema nel senso ci passeremo tranquillamente sotto e quindi potete metterli un po' distribuire dove volete se invece avete una stanza magari solitamente le stanze sono 2 metri e 70 di altezza nei corridoi e nelle cucine talvolta o perché ci sono dei soppalchi o perché ci sono dei passaggi di tubazione l'altezza è 2,40 allora vi sconsiglio di collocare gli arredi a soffitto in stanze più basse di 2 metri e 70 perché vi dà senso di oppressione un'altra caratteristica di cui ci ha parlato Luca è che il gatto ama muoversi in libertà quindi per la massima soddisfazione del gatto è avere la gattaiola per andare all'esterno per girarsi fra le stanze per poter anche magari avere un mino di prize quando va nella lettiera quindi anche per andare in bagno allora l'installazione della gattaiola non è banale perché in commercio la gattaiola è costituita non so se l'avete mai vista è una porticina di plastica che ha uno spessorino di massimo 5 cm per allungare che quindi si può posizionare comodamente su una porta se però anziché una porta di legno dovete posizionare ad esempio su un vetro la cosa si complica perché se è andato al petraio come minimo richiede 200 euro per metterci una gattaiolina quindi qui bisogna un attimino essere previdenti e quindi quando si va a mettere in infisso se avete già un animale chiedeglielo subito di farlo perché se ve lo fa subito chiaramente non mi fa pagare poi il buco il controtelaio quindi è una cosa da fare subito stessa cosa se si ha una paretina invece interna una paretina si intende quelle che quando ecco questo qua è una controparete quindi questa si buca facilmente quindi basta un attrezzo che ha un emulatore abbastanza semplice per bucarla come potrebbe essere una paretina interna in questo caso la gattaiola avrà bisogno però di essere collocate due gattaioli una da un lato o una dall'altro e diciamo il buco di collegamento fra le gattaiole deve essere correttamente stuccato perché altrimenti il gatto quando ci passa si fa male e quindi queste qua anche qui dovete chiamare un muratore non è semplice ancora più difficile è se si tratta di una parete portante che significa per esempio questa nostra parete in muratura o in pietra è una parete che porta dei pesi per cui perforare quella parete i costi salgono perché c'è maggiore lavorazione e perché poi bisogna bene fissare questa gattaiola in modo che non collassi su se stessa per cui può essere utile questo tipo di gattaiola quando uno deve metterlo per l'esterno sostanzialmente non posso metterla altrimenti la metto per andare fuori sull'esterno e utilizzo questo tipo di gattaiola allora in quel caso oltre tutto c'è da fare un altro ragionamento che se io faccio un foro che mi da sull'esterno mi entra il freddo noi ci facciamo tutte le nostre coibentazioni mettiamo tutte le caldaie a condensazione superare il risparmio energetico poi faccio la gattaiola e mi entra il freddo come faccio? allora come faccio si chiama c'è un metodo che si chiama la trappola per il freddo che sostanzialmente significa fare una S cioè se l'entrata è posizionata qua io faccio un piccolo tunnel ad S e di qua ci metto la seconda gattaiola interno e esterno e questo consente al freddo di bloccarsi fa una specie di camera d'aria per cui si può utilizzare questo tipo di accorgimento avanti abbiamo detto anche che il gatto ama la sua privacy quindi un diciamo un punto chiave è dove collocare il bicchiere perché è vero che noi di solito magari la casa non è tanto grande la teniamo nel bagno però anche nel bagno se io voglio dare praia da il gatto posso per esempio fargli una controparetina se ho spazio ovviamente sufficiente questa controparete la posso fare in cartongesso per esempio attenzione perché se siete a fare il cartongesso in un luogo come il bagno che è molto umido non potete utilizzare un cartongesso normale ma dovete utilizzare un cartongesso si dice di tipo marido è un pochino più costoso ma non assorbe l'umidità per cui non tenderà a sfarinarsi ma si conserva e si preserva nel tempo oppure si può fare un'area separata del bagno l'abbiamo visto oppure anche una piccola stanzetta apposita quindi una lavanderia oppure uno stanzino è importante che sia reato e quindi che riusciate a fare ricambio di aria oppure questa soluzione che vedete nella foto è un mobile lecchiera non so se ne avete mai visti praticamente c'è un piccolo buco dove il gatto va dentro c'è uno sportellino che ci permette di aprire e pulire la lettiera e alcuni gatti lo trovano divertente cioè ci si nascondono altri invece non lo usano perché hanno paura per poi entrarci anche qui torna il concetto che Luca cioè il veterinario deve capire dalla sua analisi che tipo di gatto abbiamo di fronte cioè se un gatto che gli piace nascondersi infrattarsi e non ha paura perché poi credo che sia una questione di paura anche quella di entrare o non entrare dentro un piccolo un piccolo buco oppure no oppure chiaramente la migliora delle cose è l'esterno se avete la possibilità appunto di mettere una gattaiola che va sull'esterno dargli la possibilità di andare a fare i bisogni anche in giardino avanti sempre stesso concetto il gatto ama muoversi in libertà come dove creare una parete attrezzata allora nel caso della parete attrezzata chiaramente il fissaggio avviene sulla parete verticale quindi anche qui tutto il discorso della scelta degli ancoraggi a seconda del tipo di muratura che abbiamo di fronte è importante cercate di non forare le murature le pilastri giubbietto armato perché si può fare magari uno o due tasselli se proprio vi capitano per questioni di posizionamento lo potete anche forare scegliete il tassello adatto che non è quello lungo ma è quello corto anche lì fatevi consigliare quale tipo di tassello è migliore per il supporto a che distanza tenere gli arredi ecco questo è importante perché mi diceva anche Francesca quando ci siamo sentite la prima volta per questo progetto che molti tendono a mettere pochi arredi quindi troppo distanti poi il gatto non salta da un lato perché è troppo distante che la dimensione diciamo ideale sia in altezza che in larghezza è sui 30 cm poi chiaramente a seconda del tipo di gatto se è un gatto più anziano va un pochino ridotta se invece il gatto è più agile più coraggioso si può anche tenerlo qualcosina in più ecco qui è importante quando si va a realizzare una parete attrezzata che tutto sommato ha anche un certo costo un certo investimento perché no per il nostro gatto fare magari una preview cioè cercare di disegnarlo proprio per vedere come viene sia a livello di distanza sia a livello di spazi con gli altri arredi ecco questo qua è un animale curioso il gatto abbiamo visto che ama molto posizionarsi in luoghi in alto e dove può guardare fuori cioè sbirciare cosa c'è fuori anche in questo caso è importante l'ancoraggio che non deve permettere il ribaltamento dell'oggetto e anche lo spazio fra i vari arredi ora in questo caso se voi vedete questa finestra io non vedo come si apre no? però se non è una finestra scorrevole è troppo vicino il telegraffio alla finestra non permetterà la completa apertura della finestra quindi bisogna stare attenti a lasciare gli spazi di manovra giusti fra i vari mobili avanti ecco questo lo abbiamo detto prima il gatto ama l'acqua corrente l'erbetta fresca gli ho scritto però insomma nel senso che sono dei piccoli accorgimenti che noi possiamo avere in casa per far felice il nostro gatto e che possono essere scelti anche in dimensioni e design anche un pochino accattivanti la fontarella questa qua è una fontarella va bene una banca abbastanza nota che vedete è una fontarella di design mentre per quanto riguarda l'erba gatta che è molto facile da coltivare e da far crescere scegliete voi un vasettino carino vi fa anche arredo insomma se lo mettete in due o tre posti della casa può essere utile per il gatto e anche divertente quindi ricapitolando gli aspetti tecnici da tenere in considerazione quando si parla di fare arredo gatto la distanza tra gli elementi sospesi gli spazi di manovra dagli arredi i supporti di ancoraggio e poi la scelta dei tasselli dei vite e dei chiodi un altro aspetto fondamentale è il passaggio delle tubazioni quando voi andate a forare una parete sul soffitto è più raro perché al massimo ci può essere un centrale quindi un passaggio di un corrugato centrale è difficile trovarlo deve essere proprio un po' a sfortuna mentre per quanto riguarda il passaggio dei cavi e delle tubazioni è importante tenersi comunque sempre a distanza di almeno 20 cm da tutti gli spigoli perché entro quel range lì è molto probabile che passi le tubazioni del gas le tubazioni elettriche e quindi almeno quello evitatelo stessa cosa evitare di andare sotto gli interruttori perché anche lì sicuramente c'è un corrugato evitare di forare la parete che sta a contatto con il bagno perché anche lì probabilmente se la parete non è tanto spessa ci può essere passaggio di tubazioni se avete in casa una porta la classica porta a scrigno quella scorrevole anche lì sappiate che su quel tipo di supporto non potete posizionare arredi per gatto quindi avere anche un minimo di accortezze nella scelta della collocazione degli arredi poi seguire sempre le istruzioni di montaggio di tutti gli arredi questo è una banalità ma invece è molto importante a volte non le leggiamo proprio e poi l'uso e la manutenzione cosa significa che ogni tanto dà un'occhiata se le viti sono strette se c'è un piccolo problema provate anche se hanno gioco questi arredi perché è importante tenerli in perfetta efficienza ecco questo è l'esempio diciamo di un inizio di simulazione come avviene la simulazione dell'arredo gatto cioè si parte da una stanza con i mobili che sono già presenti e si comincia a provare a disporre delle cose alla giusta distanza e da questo da questo studio preliminare poi avverrà la scelta degli arredi da collocare all'interno della in questo caso la pareta attrezzata avanti quindi il progetto degli interni combina il contesto spaziale l'illuminazione l'orientamento le norme la luce le esigenze individuali di animali e persone con materiali colori e stili da arredo perché chiaramente potete anche personalizzare all'infinito la vostra pareta attrezzata sia a livello di forme che di colori e quindi diventa un progetto proprio di design come possiamo aiutarvi in questo servizio architetto e veterinario innanzitutto facendo l'analisi del gatto cioè traducendo le esigenze del gatto in qualcosa che un architetto possa capire a livello spaziale cioè come il vostro gatto è come il vostro gatto è dipenderà poi come verrà organizzata la casa quindi poi possiamo coordinare vari aspetti del progetto e informarvi su eventuali bonus ed incentivi che ci possono essere perché se si va a fare un progetto di ristrutturazione importante sapete che già sulla manutenzione straordinaria ci sono oggi tutta una serie di incentivi per cui anche l'arredo del gatto potete scaricarlo dalle tasse sostanzialmente poi eventualmente se la pratica appunto di una ristrutturazione o una manutenzione straordinaria si può avere anche la necessità di fare delle pratiche burocratiche e anche questo possiamo aiutarvi e infine possiamo aiutarvi anche accompagnandomi a fare shopping nel senso che o tramite whatsapp o tramite telefono o proprio facendo una passeggiata tra i negozi di animali di arredi questo è un servizio che possiamo fare grazie qualche domanda ancora? che possiamo fare? io voglio sapere l'arredamento poi mi taccio perché si è fatto anche l'arredamento per questi studi l'arredamento che abbiamo visto è solo per i gatti però abbiamo visto anche molte volte ci stanno diversi animali nel mio caso il cane e il gatto naturalmente bisognerà studiare anche facciamo una puntata a parte anche per i gatti in questa occasione parlavamo di gatti non voglio sedere mi tirano le sedie nel cane chi ha un giardino possiamo anche fare dei giardini apposta a Roma che sono un pochino viaggiati chi non li ha ci arrangiamo con le terrazze anche una terrazza può essere benissimo utilizzata per ad esempio come area gioco con il cane e quindi anche per il cane si possono studiare dei progetti d'arredo che facilitano la relazione e facilitano anche è giusto che loro vivono con noi sono integrati benissimo fanno parte della nostra famiglia è giusto che anche loro abbiano loro spazi e magari da condividere con noi e questo fa bene anche alla relazione sembra che il cane adesso abbia meno esistente esigenze del gatto forse è una sola sensazione da un punto di vista spaziale all'interno della casa gli spazi sono un po' più definiti per il cane quindi tant'è vero che l'arricchimento ambientale nasce soprattutto in medicina comportamentale come terapia come parte della terapia comportamentale in gatti che hanno problemi di comportamento quindi nasce per il gatto però questo non vuol dire che non si possano studiare le soluzioni del red ma anche per il cane e soprattutto tutto lì si va in base anche alla relazione anche il semplice fatto di mettere il mobiletto per la pronta uscita oppure fare una piccola area giochi oppure far sì che magari gli spazi siano condivisi ma allo stesso tempo ognuno abbia i suoi propri spazi nel cane è importante anche definire lo spazio nel senso che per alcuni cani dirgli ok questo è il tuo posto nessuno te lo ruba però te lo stesso questo è il tuo posto con una regola ben fissa senza imporla ma proponendola è molto utile soprattutto anche di prevenzione di patologie comportamentali per patologie comportamentali o comunque per migliorare alcuni aspetti della relazione quindi si possono studiare benissimo le soluzioni del genere come voglia qua diciamo una proporzione tra me le gatte disponibili allora diciamo che non è bene non essere accumulatori di gatti ecco questo sì perché in ambienti sovraffollati le patologie comportamentali vengono assolutamente fuori sempre però in massima insomma si possono studiare delle soluzioni non c'è una regola fissa è chiaro che una casa piccola dove non si fa niente tutto il giorno ci mettono all'interno 10 gatti è chiaro che possono venire fuori dei problemi questo sì bene altre? ringraziamo i relatori Sara Pizzo Luca e Cantini e Francesca e ancora grazie 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 la serata e naturalmente l'hotel Victoria che ci ospita e Grazie a tutti